Eri benvenuti ragazzi nel nostro Tomb Raider Definitive Edition oggi abbiamo finito prima di lavorare e niente, ci dedichiamo a un altro piccolo video di questo immenso e grandissimo capolavoro secondo me andiamo avanti se non sbaglio eravamo rimasti che dovevamo attraversare un punto dove ha il gioco già lasciati su quella pietra dobbiamo vedere dove poter andare se sentite un sfruccio eccoci è la ventola che devo tenere accesa perchè chiaramente ok, allora alziamo gli occhi al cielo lui ci indica di andare di la ma io mi faccio una docetta che non guasta non so se c'è qualcosa da raccogliere viene di no andiamo avanti qui si abbassa da sola figata assurda ah, c'è il campo qui possiamo andare a potenziare discesa a valle attenzione mmm, uccelino intanto accendiamo questo va che io dove c'è fiaccole io devo accendere devo illuminare il cielo e voilà lo spegniamo quando lo spegno si arrabbia eh ah stessi informi della guardia donante e dirittevano suori disumani senti come parli Lara sembri il tuo padre si direbbero i superstiti di un'antica ciberale ok ora sono proprio mio padre l'unica cifrezza che hanno ucciso quella gente Qui ce ne manca due, molto meglio, qui lo faremo quando, voi sapete che io qui vado sempre a potenziare la pistola, quindi facciamo 300 completato, vabbè, possiamo anche dargli un per due, visto che è più due, vabbè, facciamo questo ragazzi o no? Ma non so, non so, non so, l'arco è tutto completato, come vedete tutto spuntato, quindi abbiamo tutto, il fucile canne mozze, utilissimo, però guardate quanti punti richiede, mamma mia, ne ho pochini, questo anche completato, quindi, niente ragazzi, io devi rilasciare così, dai, abbiamo pochi, Pochi punti, quindi andiamo avanti, allora, siamo arrivati qua, c'è una cassa da prendere, molto bene, allora noi faremo questo lavoro qui, puntiamo l'arco, e come se nevicasse, scocchiamo la freccia Ultras, molto bene, vai Lara, io ti amo e tu non lo sai, Tanta roba, mamma mia, ok, e adesso di qua, come facciamo ad arrivare lì? Attenzione, attenzione, che forse avrei dovuto entrare nell'acqua e grapparmi lì? Vediamo, però, quello là, è una statua da accendere, quindi, attenzione, non togliamo la corda, Ma se io mi aggrappo, scusate, eh, sto tutto di qua, dovrei, perfetto, se accendiamo un'altra torcia da stadio, Ce ne manca una, molto bene, ma che cazzo è, non c'è qualcos'altro da fare nell'acqua, no, là sopra, niente, quindi, possiamo ributtarci e andare verso il nostro cammino, che io direi che la corda, secondo me, forse non serve neanche, oh, ok, Possiamo camminare tranquillamente, come se piovesse, però di là, secondo me, dobbiamo andarci a Vedetela, guardate, guardate come mi illumina là sopra, hmm, interessante, eh, oh, poi vedremo se andarci, oh, no, vai, Vai, secondo me, ci arriviamo da sopra, lì, vediamo intanto, mamma mia, ragazzi, quanta roba c'è da fare qua, uh, vabbè, anche di là, ah, ecco, devo arrivare là, avete capito, bisogna andare lì, C'è gente, c'è gente, c'è gente, eccolo là, Vediamo di prendere qualcosina d'altro, una pistola, Che bastardo, figlio di troia, Ma guarda questo pezzo di merda, ma guarda questo pezzo di merda, sì, come mira le armi, non è che siano tanto, tanto di quelle, vabbè, qui l'abbiamo già accesa, qui, Io devo uccidere quei coglioni lì, e li devo uccidere subito, quindi sappiamo già dove sono, non c'è più bisogno di guardare, andiamo, Io devo beccarli in testa, Ok, perfetto, Io direi che adesso però possiamo anche andare, Ui, Ok, allora andiamo a accenderci l'ultimo delle, una merda, una merda, Torniamo su, non c'è nessun problema, E qui non si può aggrapparsi? Eh no, Allora dobbiamo rifare tutto, andiamo, Perfetto, Andiamo su di qua, li abbiamo già uccisi, quindi non dovrebbero più esserci, E niente, Ok, Bene, altro, oh, l'ultima statua, finalmente l'abbiamo trovata, E va, illuminazione, sfida completata, fighissimo, molto bene, questa è andata, Adesso, facciamo una cosa alla volta ragazzi, una cosa alla volta, Mamma mia, vi giuro che credevo di cadere, Allora lì c'è un altro tronco, però io vorrei vedere dove posso arrivare passando da sotto, Perché qui, Allora, più sopra, Si andrà poi dopo, secondo me, E niente, li abbiamo acceso, siamo a posto, Ok, andiamo di qua, Perfetto, E adesso, Andiamo a vedere se c'è da fare qualcosa qui, Ah, attenzione, Ah no, ma questi sono da accendere forse, Ah, ok, ok, Vediamo qui, Cosa c'è qua? Ok, Queste? Ah, hai capito, Come devi fare, Devi essere, Ah, 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 Forse ho capito cosa devi, Come devi fare, Devi accendere quella, Quella lì, E tirare l'altra, Ma è qui un po', Un po' arcade, Qua, Vediamo, Uh, E non me lo dà più, Ormai, Ma, Eh, Vabbè, Niente, Pazienza, Dai, Tanto, Quelli sono cose che abbiamo, Abbiamo già a 600 e passa, Quindi, Direi che, Possiamo già starcene tranquilli, Però, Ragazzi, siccome, Ah, Molto bene, Ok, Perfetto, E voilà, Preso altro materiale, Andiamo pure, Qui l'acqua è bassa, Quindi, Ok, Possiamo andare di qua, Direi, No, Ragazzi, Che ne dite, Se andiamo di qua, Attenzione, Saccheggiamo, 900, Ok, Abbiamo preso, E, Niente, C'è delle cose da fare, Lì sopra, Vedete, Io direi che, Però, Sono testardo, Bisogna esplorare bene tutto, Quindi, Di qua, Impossibile passare, Quindi, Direi che, Qui tira fuori le armi da solo, Perfetto, Attenzione, Qui, Ci va a fucile a pompa, Perfetto, Ok, Andiamo dentro, Attenzione, Qui, Fa tutto il gioco, Ci sono, Stai bene, Cosa vogliono da me, Lara, Una prova nel fuoco, Che staria è? Ascolta, Sto arrivando, Ti tirerò fuori da lì, Aiuto, Lara, Ti prendo, Promesso, Eh, eh, Tosta, eh? È tosta, è tosta, Emo, 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 Qui sta facendo tutto il gioco, Lì c'è munizioni, Fa completo, Esplorare, Esplorare, Assolutamente tutto, Ma, Qui da dove siamo arrivati? Lì, L'aereo c'è, Lì sotto, Dobbiamo andare? Attenzione, Perché qua ci porta fuori via, eh? Forse c'è ancora cose da fare, Ma, Ricordiamoci poi solo la strada, No, no, ma qua siamo già stati, Andiamo via, Andiamo via, Non c'entra niente qua, Andiamo via, Andiamo, andiamo, Niente, Va bene così, Ehm, Allora dobbiamo andare di là, Dall'altra parte, Perché qui, Ma lì cosa c'è? Ok, Abbiamo preso un po' di munizioni, Ah, Qui c'è una porta, Ah, Dobbiamo andare lì, Avete capito? Dobbiamo andare lì, No, Però, Vedate un attimo, eh? Scusate, eh? Scusate, ma io sono testone, Sì, di qua torniamo nel pezzo, Che eravamo già una volta, Che questa porta, Se ricordate, Era chiusa, Non avevo fucile a pompa, Non potevo aprirla, Ehm, Niente ragazzi, Io direi che ormai, Questo pezzo, Dovrebbe essere, Sì, C'è ancora lì da fare, Ma, Vabbè, Andiamo di là, dai, Andiamo a finirci questo pezzo, Tanto cosette ne abbiamo fatte, Fino adesso, Andiamo, Ehm, Aaaaaaah, Attenzione, Itzioneme, Ooh, Ooh, Oh, Uh, Mitrae ferma mamma mia ragazzi io non c'ho parole componente di un fucile a pompa molto bene siamo già mille qui armi possiamo già potenziarle volendo qualcosina possiamo già fare di più niente ragazzi adesso c'è da andare lì ma porco di dio ma mica adesso porca madonna adesso prendo prendo il mitra di io fare l'isdereno l'isdereno dammi il mitra ma qui aspetta un po' no 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 non sta ancora stronti ragazzi sempre che deve accendere sta roba andiamo a vedere qua dentro se c'è siamo vicini andiamo vicini alla meta ragazzi andiamo oh qui c'è niente ok perfetto e adesso attenzione perché qui si prospetta una cosa di mamma mia minchia la spinta giù bucca troia bucca troia mi sa che dobbiamo dobbiamo andare verso sinistra mamma mia ragazzi è difficilissima porca troia O, 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 oo, masacarti O, sta accadute Porca puttana ragazzi, è difficile, è difficile, bisogna aprirlo Maah, ohhhh Grazie Eh bisogna seguire la, ohhh, ohhh, ti ho fatto la porca troia eh non è facile non è facile non è facile ragazzi proprio per niente no cristo oh cristo proviamo ancora una volta ragazzi poi ci lasciamo qua sono un po' stanco a dirvi la verità ha lavorato tre ore oggi è stato come farne cinque o sei niente io bastardo madonna dun cristo boh non provo ancora una volta raga poi poi ci salutiamo proviamo poi quando sono meno stanco dai niente si impianta sempre dentro quello ma va va bene ragazzi alla prossima è tutto ci salutiamo qua ma buono dai ragazzi non lo devo fare con calma alla prossima grazie a tutti grazie a tutti